Con la pubblicazione della stima preliminare dei conti trimestrali per il quarto trimestre del 2018, l'Istat ha reso noto che il PIR reale è diminuito dello 0,22% nei confronti del trimestre precedente. Facendo seguito alla marginale flessione registrata nel terzo trimestre, il nuovo dato, che sottolineo è una stima preliminare, segnala una fase di cosiddetta recessione tecnica. La flessione cumulata registrata nella seconda metà del 2018 è comunque limitata a 0,36 punti percentuali, per cui possiamo per ora parlare di una battuta d'arresto più che di una vera recessione.